Spero che il vicino di barca non veda mai questo video perché sto combinando un macello Bentornati sul mio canale, oggi parliamo di un prodotto che serve a proteggere i plexiglass e i pvc in particolare Parliamo del Plexi Restore dell'Italia Marine Io ho una confezione anonima e per distinguerli uno e due, ho questi due strappi di scotch Proprio perché è un prodotto bicomponente, va dato prima una fase e poi l'altra Ma è un prodotto che a quanto dichiarato all'azienda serve sia a ripristinare i pvc e il plexiglass Ma soprattutto a proteggerli nel tempo, quindi a evitare scolorimenti da UV e a dargli una protezione idrorepellente Perché è a base anche nanotecnologica Però non perdiamo altro tempo, vediamo come si comporta Non vi posso dare descrizione sul flacone perché è anonimo, è una confezione di tessere per gli operatori Però lo possiamo monitorare nel tempo e vedere se fa veramente al caso nostro o meno Soprattutto ora che siamo quasi in periodo di ferie, quindi riusciamo, anzi siamo proprio in periodo di ferie Quindi vediamo anche con l'utilizzo continuo della barca come regge la protezione sui vetri Avviciniamo la videocamera e vediamo come si comporta L'applicazione è molto molto semplice Prendiamo il flacone numero uno, lo agitiamo E prendiamo una spugnetta dal lato non abrasivo Spugnetta, panni microfibra, io mi trovo molto meglio con questa Andiamo a mettergliene un po' Vedete la consistenza è abbastanza cremosa E si va a stendere sulla superficie, quindi andiamo a dare dei rapidi passaggi Sul plexiglass Purtroppo, anzi per fortuna il mio plexiglass è ancora in buone condizioni perché l'ho sostituito l'anno scorso Quindi non posso darvi suggerimenti sull'ingiallimento, su come migliora l'ingiallimento Però possiamo testare la protezione Dato che fa molto molto caldo Il prodotto si asciuga subito Quindi andiamo a stenderlo Con queste, diciamo una pennellata Per intenderci, rapida Dopodiché noi dovremmo aspettare Un po' di tempo perché si asciughi Ma dato che fa molto molto caldo Veramente bastano 30 secondi per l'essiccazione completa Aspettiamo un po' di più giusto Per far vedere che dà questo effetto anche sfarinato del prodotto che si secca Perché diventa quasi polverizzato Una volta che si è asciugato Noi non dobbiamo fare nient'altro che prendere il secondo flacone E riapplicarlo al di sopra Esattamente come abbiamo fatto adesso Quindi aspettiamo qualche minuto E poi dopo andiamo a dare una seconda applicazione della fase 2 E' passato appena un minuto E vediamo già, ve lo dico io E' proprio sfarinato Non ci sono più segni liquidi Quindi possiamo tranquillamente poggiarci la mano sopra Quindi andiamo a dare la seconda mano Esattamente come prima Quindi non rimuoviamo la fase 1 Ma prendiamo la fase 2 Sull'altro lato della spugna Io ho preferito dividere a metà la spugna Qui c'è la fase 1 e qui c'è la fase 2 La fase 2 è un po' più liquida rispetto alla fase 1 Quindi riusciamo anche a differenziarle così La fase 1 ha anche un colore giallino Mentre questa qui è bianca E andiamo di nuovo a ristendere sul vetro In pratica è come se questo doppio strato Creasse una sorta di scudo protettivo Nei confronti del plexiglass E quindi riesce a proteggerlo Adesso diamo questa seconda mano E riaspettiamo che si riasciughi di nuovo E dopo aver applicato anche la fase 2 Esattamente come con la fase 1 Aspettiamo che si asciughi la superficie Quindi diventa questo aspetto sfarinato E poi andiamo a rimuoverlo con un panno in microfibra Aspettiamo ancora un altro po' Giusto per essere sicuri che questa fase 1 e fase 2 Aderiscano uno sull'altro E poi la rimuoviamo Il prodotto non mi ha dato particolari difficoltà Di compatibilità con gli altri materiali Anche in questo caso Io l'ho dato un po' sull'acciaio per errore Anche da quest'altro lato Sulle cornici Ma non mi ha mai dato effetti collaterali particolari Quindi posso dirvi tranquillamente Applicatelo senza stress L'unica attenzione appunto È non sprecare eccessivamente il prodotto Perché non serve da quel che mi dicono in casa madre E stenderlo accuratamente Perché ci sono alcuni punti Anche qui gli ho dato qualche punto Dove è più doppia Non l'ho steso per bene Quindi più spesso lo strato di crema E quindi inevitabilmente ci vorrà più tempo affinché si asciughi Quindi stendiamolo per bene Io per ora mi trovo bene con la spugna C'è chi usa un pennello Però io con questa spugna qui Non ho difficoltà anche perché dopo un po' si impregna Quindi diventa un unico strato omogeneo Che riesco a dare Ovviamente senza fare pressione Aspettiamo ancora qualche altro minuto Per essere certi che si asciughi Fa un caldo incredibile Io vi sconsiglio di fare un'applicazione con questo orario Però era l'unico modo per accelerare i tempi per il video E adesso che si è asciugato Quindi vedete con mano non lascio grandi segni Spero che si vede in camera Ma basta semplicemente adesso andare a rimuoverlo con un panno in microfibra Ovviamente vi ripeto La superficie è stata prima pulita e sistemata Non sono andato lì sul calcare la salsetina Perché ovviamente potrebbero interferire con l'aderenza del prodotto sulla superficie L'abbiamo prima pulita con un semplice sapone Io ho usato il Biodur Cleaner Giusto per essere affini alla casa madre Ho usato un altro prodotto dell'Italia Marine E adesso andiamo a pulirla Quindi panno in microfibra e strofiniamo Ed eccoci qua È stato un po' più complicato del previsto Perché il prodotto essendo cremoso In alcuni punti non si era asciugato del tutto E in altri punti invece il caldo l'aveva fatto bene aderire Quindi era un po' complicato da rimuovere Fortunatamente il panno in microfibra ha reagito bene Vi consiglio anche di acquistarlo su Amazon Ci sono i panni Amazon Basics Vi li metto in descrizione Perché mi trovo molto bene con questi prodotti E riescono anche ad avere un buon uso continuativo nel tempo Nel senso che non diventano rigidi Riesco ad utilizzarli praticamente per qualsiasi superficie Adesso prendiamo il tubo dell'acqua Per valutare l'effetto idrorepellente Come dichiarato all'azienda Dovrebbe darci l'effetto cosiddetto foglia di loto E vediamo come si comporta Prendiamo il tubo dell'acqua Vediamo E spruzziamo Vedete L'acqua scivola tranquillamente Cosa che invece non dovrebbe accadere su quest'altro lato Quindi se lo spruzzo Vedete come si accumula molto di più Qui rispetto a qui Quindi per ora il prodotto sembra andare bene Anzi ha dato anche un po' di effetti idrorepellenti all'acciaio Vedete Quindi azzarderei che potremmo anche utilizzare E fare un test sull'acciaio Vedere come si comporta Però qui sul vetro non ci dà problemi Dunque cari amici Per ora il prodotto sembra funzionare veramente bene Non abbiamo avuto grandi difficoltà di applicazione Anzi ha dato anche un'ulteriore protezione all'acciaio Da quel che sembra Però non voglio provarlo per evitare Che ci siano degli effetti collaterali a lungo termine Vediamo più che altro questa zona qui come si comporta Io farò degli aggiornamenti flash durante la crociera Durante il mese di agosto Per vedere come si comporta Perché ovviamente il vetro è quello più soggetto Alla navigazione, alle onde Quindi è anche la parte più importante per me Che sto al timone della barca Quindi è più importante per me Darvi aggiornamenti continui su questo prodotto Però farò degli aggiornamenti flash Sulla pagina facebook Dato che già conosciamo come funziona Come si applica il prodotto Quindi vi invito ad attivare la casella degli aggiornamenti Per non perdervi nessuna novità Nessun effetto collaterale presunto del prodotto Magari spero che non ce ne siano Perché il vetro li ho cambiati l'anno scorso Quindi speriamo che non abbiamo problemi Per il resto come sempre vi invito a lasciarvi un commento Se avete dei dubbi A inviarmi un messaggio se volete farmi provare un prodotto E buone vacanze a tutti Perché direi che ce le meritiamo E' anche ora di poter navigare un po' più in tranquillità Un saluto a tutti e alla prossima